La semplice ma significativa cerimonia italo-romena nell'agro redento. Il ministro di Romania consegna al ministro italiano dell'agricoltura, sua eccellenza Rossoni, le 23 giovenche di razza Simmental, che gli esportatori di bestiame del Banato, una delle più latine province della nazione romena, colonizzata dai legionari di Roma 18 secoli orsono, offrono ai bonificatori dell'agro pontino dono simbolico di abbondanza e pegno di fratellanza latino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS